No, chiaramente era una partita da vincere. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, forse anche di più. Certamente al primo tempo siamo stati un po' condizionati. Certamente chi sblocca la partita poi ha un vantaggio enorme, però fino alla fine hanno dato tutto quello che avevano. Peccato averla pareggiata alla fine, ma le occasioni le abbiamo avute anche importanti. Però certamente, ripeto, il campionato non è finito, bisogna andare a vincere a Cosenza e ci proveremo con tutte le nostre forze. Senta, le faccio una domanda e me la gioco subito. Perché pronti via, non essendoci Busellato, che è un elemento imprescindibile, Valdifiori e invece Rigoni? Valdifiori che è un regista di ruolo. Valdifiori è stato in dubbio fino alla fine, aveva un problema al soleo. Negli ultimi giorni si è allenato a corrente alternata, non potevamo rischiare di giocarci un cambio subito e quindi sapevamo che poteva darci quel poco che ha dato e ha dato tanto. Così come Maestro abbiamo cercato di recuperarlo fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. Così come Volta, anche lui ha causato nelle ultime sedute qualche problemino al polpaccio. Abbiamo sradicato Sorensen dall'infermeria e le abbiamo tentate tutte, insomma. Ripeto, da un punto di vista dell'impegno, i ragazzi hanno dato veramente tutto quello che avevano, però prendiamoci questo pareggio che ci lascia ancora uno spiraglio di luce. Buonasera, Luigi Di Marzio, il centro. Ah, scusami. Ok, grazie Andrea. Io sono d'accordo con lei guardando i numeri. Cioè questa è una squadra che oggi ha tirato dieci volte rendendo le statistiche. Però mi devo soffermare anche su un altro piano. Lei a passaggio della conferenza stampa ha detto una cosa molto importante. Serviranno cuore, grinta e gambe. Le gambe sono andate random oggi. Il cuore e la grinta, al primo tempo, sinceramente, fino al gol, io ho fatto fatica a vedere una sua squadra. La cosa preoccupante è proprio questa, a prescindere dai problemi legati al Covid, dai pochi allenamenti, anzi dai zero allenamenti. Questa è una squadra che di nuovo, in una gara del genere, ha steccato a livello caratteriale. Io credo, e lo ribadisco di nuovo, l'ho già fatto questa domanda, che per lei sta diventando sempre più difficile provare a risollevare questa squadra a livello caratteriale. Le può allenare a livello tattico, tecnico, però poi, insomma, il cuore e la grinta devono averlo anche un po' nel DNA, i suoi calciatori. Io non ho visto un approccio assolutamente combattivo, un approccio assolutamente condito con la grinta. Anzi, questo è un mio modesto punto di vista, però credo che parlare di ancora speranza, credo che sia abbastanza illusorio per chi ci ascolta e anche per i tifosi. Certamente, ripeto, era una partita che dovevamo vincere, lo sapevamo, ma non possiamo alzare bandiera bianca. Quindi, finché la speranza ci dà un lumicino, dobbiamo crederci fortemente. Certamente il pareggio inguaia sia noi che l'entella, questo è poco, ma è sicuro. Da un punto di vista dell'impegno, sapevamo tutto l'importanza della gara. I ragazzi certamente hanno cercato di dare, di fare. Subiamo il gol, certamente è un'altra mazzata. Loro si chiudono, ripartono bene. Non siamo riusciti a trovare i barchi giusti. Ripeto, proprio perché loro facevano grande densità, squadra molto compatta, ripartivano velocemente. Al secondo tempo penso che la squadra si sia liberata un po' da un punto di vista mentale. Abbiamo creato tantissimo, veramente tantissimo, e peccato per la pareggiata alla fine, perché magari l'avessimo pareggiata prima avremmo avuto qualche speranza in più per portarla a casa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. poi continuare così, ripeto, perché la squadra si stava esprimendo bene, che creava in continuazione. Abbiamo messo poi dentro Giannetti e Masciangelo, scusatemi, è inzita per cercare di continuare a creare occasioni su quella fascia, magari Giannetti a centrarlo un pochettino di più quando la palla era sull'altra fascia ma non siamo riusciti a dare il colpo finale. Ma al primo tempo il figlio, ripeto, è figlio magari della tensione, figlio magari di due settimane dove siamo stati fermi. Possono essere tante le cause, certamente aver preso gol per primi ci ha condizionato tantissimo, ha galvanizzato loro che hanno fatto la partita che dovevano fare e ci aspettavamo. Al secondo tempo invece siamo entrati in campo magari non avendo più nulla da perdere, la squadra si è sciolta e ha fatto quello che doveva fare magari al primo tempo. Mister, buonasera. Buonasera. Senta, lei in presentazione ha detto che questa è una partita da andare a prendere che è un termine anche molto accattivante anche per uno che lo ascolta. Significa andare a fare la guerra, significa fare una partita perché noi dobbiamo vincere. Io penso al primo gol subito da fallo laterale e la seconda volta ci succede. Tra l'altro dubbio, secondo me, quindi nessuno tra l'altro protesta, nessuno che prova anche un po' a sporcare quel fallo laterale mettendosi in mezzo e prendiamo gol. E penso anche a altre situazioni. Secondo me, se devo, non so se lei è d'accordo, se si deve mettere in risalto una cosa, questa squadra avrebbe dovuto fare più guerre in mezzo al campo sotto tutti i punti di vista. Agonismo, in tanti aspetti che queste parole poi, che queste partite poi possono essere indirizzate. Questo è il primo aspetto. E il secondo, a proposito di disponibilità, se capire l'indisponibilità di Drudi, di che natura è? Volevo sapere. Si è stirato il polpaccio, quindi è fuori. Ha accusato questo stiramento la settimana scorsa e quindi è un giocatore che abbiamo perso fino a fine campionata. E sull'aspetto invece della partita, dell'atteggiamento? Sull'aspetto dell'atteggiamento è normale che se siamo lì in fondo qualche lacuna ce l'abbiamo a livello caratteriale. Però, ripeto, io ho il dovere fino in fondo, fino alla fine, di cercare di scuotere la squadra in tutto e per tutto e di crederci fino alla fine, finché la matematica non ci condannerà. Tutti sapevamo e sappiamo che questa partita dovevamo portarla a casa, dovevamo andarci a prendere la partita, cose che abbiamo fatto al secondo tempo fino alla fine, anche non avendone più, anche perdendo magari i riferimenti. Abbiamo rischiato qualche volta delle ripartenze dove loro potevano punirci e magari avessimo avuto un po' più di serenità nel primo tempo a giocare la palla, la palla invece pesava e siamo stati lenti nel giro palla e non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto anche l'occasione per sbloccare noi nel primo tempo, magari poi diventa un'altra partita. Però, ripeto, è normale che io ho le idee chiare su tutto, nel bene e nel male. Conosco questa squadra mi tengo le negatività cercando di spronarli, ripeto, come ho detto prima, fino in fondo, ma cercando di salvaguardare ancora queste quattro partite per assolutamente giocarcela fino alla fine con i nostri limiti. Mister, lei poco fa ha detto una cosa, io ci spero ancora, in queste situazioni credo che bisognerebbe sperare e agire. Perché sperare ancora e in che modo agire? Io le faccio questa domanda. No, sperare perché, ripeto, la matematica non ci condanna, sappiamo che abbiamo un solo risultato, come ce l'ha il Cosenza, e quindi sarà uno scontro diretto fondamentale per noi e per loro. Quello che mi lascia credere è il recupero, chiaramente, dei calciatori che oggi ancora sono fuori e andarci a giocare la partita sapendo che è veramente l'ultima occasione. E quindi finché avrò fiato, finché avrò forza, finché avrò tutto quello che è la mia positività, cercherò di metterla sul campo e di trascinare i ragazzi. Ecco, posso fare una domanda, mister? Perché effettivamente, sì, insomma, l'aspetto temperamentale è venuto meno. Questo è poco ma sicuro nel primo tempo, insomma, una squadra che è sembrata scarica, stranamente. le chiedo scusa, non è voluto, ecco. No, 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 infatti stavo proprio completando. Questo ci tengo a chiarire. Abbiamo le nostre lacune che noi conosciamo bene quali sono le nostre lacune. No, 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 ma io stavo completando, infatti stavo dicendo, le do atto, probabilmente la troppa pressione ci può stare, perché questa è una partita decisiva. Però anche tatticamente, secondo me, cioè Lentella l'ha preparata bene perché ha blindato le fasce, ha fatto un 4-4-1-1, andavano sempre a schermare Rigoni che non è propriamente un centrocampista di regia, come ho detto inizialmente. Quindi, cioè, si faceva fatica a costruire gioco. Io questo intendo dire. Abbiamo pagato quello perché è normale che anche oggi è la prima volta che ci trovavamo ad affrontare una squadra con il 4-4-1-1, 4-4-2 e quindi continuavamo ad andare sull'esterno, ma sull'esterno erano tutte parità numeriche, quindi non riuscivamo a trovare sbocchi. Dovevamo fare altro, cosa che poi abbiamo aggiustato a fine primo tempo negli spogliatoi, per cercare poi la superiorità numerica sull'esterno, per attirarli in mezzo, per poi andare sull'esterno. Bisogna avere il tempo per lavorare, cosa che noi nelle due settimane che abbiamo vissuto non l'abbiamo avuto. era la prima volta che affrontavamo una squadra che giocava con questo modulo, sinceramente ci aspettavamo un'entela sul 4-3-1-2 e queste due settimane di stop chiaramente ci hanno condizionato molto e il passato purtroppo pregresso lo paghiamo perché non abbiamo avuto possibilità. Certo, ma lei ha tutte le attenuanti? No, no, ma io non cerco le attenuanti. No, nel senso è giusto quello che sta dicendo, ma era solo una considerazione la mia, non era una critica voglio dire. Le attenuanti assolutamente. Un'informazione di servizio per sabato tra infortunati e contagiati purtroppo c'è qualcuno che potrebbe recuperare? Seterra ieri era negativo e oggi sinceramente non lo so perché poi preso dalla partita non lo so Bocchetti è da ricondizionare completamente Sorensen speriamo di recuperarlo per sabato e Sena ha accusato ancora un problema all'aduttore quindi verrà valutato nei prossimi giorni Drudi è fuori Balzano e Musciai sono fuori Riccardi purtroppo ancora il Covid Tabanelli lo valuteremo nei prossimi giorni ma anche lui è un calciatore che bisogna ricondizionare da capo e poi magari ne dimenticherò qualcuno come ieri ho dimenticato Drudi nella presentazione della gara che era infortunato e quindi faremo la conta domani su quelli che saranno disponibili con la speranza che magari qualche positivo dei giorni scorsi possa essere negativo e quindi magari possiamo portarlo proprio numericamente perché abbiamo bisogno scusi mister ma quando sei infortunato di nuovo Drudi perché l'abbiamo visto correre nelle immagini che è infortunato il giorno successivo da quando abbiamo iniziato gli allenamenti individuali perfetto in una seduta di allenamento a posto di allenamento che